Ad Eboli un carro funebre è risultato privo del certificato assicurativo. Immediato è scattato il sequestro del carro funebre privo di assicurazione appartenente ad una ditta di pompe funebri di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo di trasporto si stava recando a Milano per recuperare una salma per poi riportarla a proprio domicilio, in Sicilia. Quando è uscito dall'autostrada lo svincolo di Eboli, probabilmente per una pausa, ha incrociato una pattuglia in borghese della Polizia Municipale del Comandante Mario Dura, che era di controllo sulla SS-19 ed è stato subito fermato. Al controllo gli agenti hanno potuto appurare che il carro funebre era privo di certificato assicurativo scaduto nel 2021. Immediato il sequestro del mezzo. Ovviamente, vista l'urgenza del recupero della salma, l'agenzia funebre di Agrigento è stato immediatamente segnalato il sequestro. Di lì a poco, sembra che dalla città siciliana di Agrigento sia dovuto partire un altro carro funebre per poter recuperare il feretro a Milano e riportarlo poi in Terra Sicula. Gli inquirenti hanno condotto il carro funebre sottoposto al sequestro nella sede di Via Pagano, per poi essere affidato ad una ditta specifica per la custodia, in attesa che si sblocchi la questione assicurativa. Venga pagato il dovuto, una multa salata, per poi poter disporre finalmente del dissequestro del mezzo utilizzato dall'agenzia funebre di Agrigento per il trasporto dei feretri da una città all'altra o da un paese all'altro.